il sedano è un ortaggio piuttosto difficile da congelare in quanto è molto ricco d'acqua. Una volta scongelato i suoi gambi potrebbero aver perso un po di sapore e soprattutto la croccantezza, ma se ne avete acquistato tanto e non vi va che appassisca prima dell'uso potete prolungarne la durata mettendolo nel congelatore. L'ideale per tenerlo molti mesi dai 12 ai 14 mesi in congelatore sarebbe sbollentarlo, però se non volete sbollentarlo potete comunque metterlo, adesso vi faccio vedere come, senza sbollentarlo nel congelatore e sarà buono comunque per un paio di mesi. Per prima cosa quando acquistate il sedano assicuratevi di scegliere dei gambi dritti e duri, osservate le foglie e assicuratevi che siano fresche, guardate, basta guardare, devono essere verdi 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 quindi evitate i gambi flosci, marci o maleodoranti. Per prima cosa andiamo a pulire i gambi, tagliamo questa parte, le foglie le mettiamo da parte, molti non le usano ma io le utilizzo e anche ben volentieri. Tagliati i gambi li mettiamo in uno scolapassa e ne andiamo a sciacquare sotto abbondante acqua corrente fredda. Sciacquati i gambi li asciughiamo aiutandoci con un canovaccio e dobbiamo scegliere a questo punto se congelarli oppure se tenerli in frigorifero per qualche giorno. Se non avete intenzione di congelare il sedano potete tenerlo in frigorifero, seguendo questo metodo dovrebbe conservarsi se è fresco per almeno una quindicina di giorni. Mettete dell'acqua in un vasetto o in un bicchiere ed immergete per metà, saranno quattro dita d'acqua, i gambi. Tenendoli così in frigorifero vi basterà cambiare una volta al giorno massimo ogni due giorni l'acqua e il sedano si manterrà sempre fresco. Se invece avete poco spazio nel frigorifero o non vi va di cambiare l'acqua frequentemente avvolgete il sedano nella pellicola di alluminio e mettetelo in frigorifero durerà anche in questo caso parecchi giorni. Preferite la stagnola ai sacchetti di plastica in quanto la stagnola consentirà la fuoriuscita di un ormone chiamato etilene che fa maturare la frutta e la verdura mantenendo in questo caso il sedano fresco e croccante mentre i sacchetti di plastica intrappolano il gas, questo l'etilene praticamente, al loro interno aumentando le probabilità che il sedano marcisca. Per quanto riguarda il congelamento bisogna sempre procedere alla stessa maniera, cioè pulire i gambi, lavarli e poi tagliarli. Per comodità ce li tagliamo di una dimensione media, più o meno due centimetri, in modo da poter utilizzare sia nelle minestre, nei minestroni o laddove possono essere utili. Come vi dicevo prima, se volete potete anche evitare di sbollentarli, quindi a questo punto una volta tagliati così, vi basterà metterli in un vasetto di vetro, in un contenitore di plastica o in un sacchetto gelo. Oggi però li andremo a sbollentare, quindi vediamo come procedere. Una volta tagliati, li ho risciacquati per una seconda volta, l'acqua bolle, li vado a mettere in acqua bollente, li faccio cuocere per due minuti. Nel frattempo vi vado a lavare le foglie, ho messo a sgocciolare le foglie in uno scolapasta, sono passati due minuti, adesso vado a scolare direttamente in dell'acqua fredda, appena tolto la bolle dal frigorifero, se ci fosse del ghiaccio sarebbe ancora meglio, vado così a scolare direttamente il sedano nell'acqua fredda, in modo da fargli fermare la cottura. A questo punto, fermata la cottura, scolo il sedano e lo lascio per qualche minuto, scolare all'interno di questa bolle, scolate le foglie, le facciamo asciugare su un canovaccio, una volta asciutte le andiamo a tagliare molto finemente, ne approfitto per dire, anche se molti lo sanno, che in tanti scartano le foglie di sedano, io invece le utilizzo tranquillamente, a volte ci faccio un pesto, devo dire che il sedano è un ottimo sostituto del basilico, tritate così finemente, si possono aggiungere a frittate, oppure possono essere affiancate ai gambi, all'interno di brodi o di minestroni, o in alternativa possiamo anche aggiungerle a delle torte di verdure. Comunque, ripeto, potete veramente usarle un po' dappertutto, dove il sedano ci sta bene. Stagliate le foglie, possiamo congelarle in svariati modi, chiaramente possiamo metterle in un vasetto di vetro, in un contenitore di plastica, oppure un'idea potrebbe essere quella di metterle in un contenitore per il ghiaccio, una formina per il ghiaccio, o molto più semplicemente, in una busta a gelo. Io in questo caso, per questione di spazio e di semplicità, preferisco la bustina per il congelatore. Messe tutte le foglie, facciamo uscire l'aria e vado a fare un nodo leggero. Fatti scolare e asciugati, tamponandoli i gambi, tagliati a pezzetti, e andiamo a mettere sempre nelle bustine per il congelatore. Come per le foglie, potete tranquillamente utilizzare dei contenitori di plastica, oppure dei vasetti di vetro. Messi tutti i pezzetti, facciamo uscire l'aria, facciamo un nodo leggero e andiamo a mettere nel congelatore. Io spero che questo video possa esservi di aiuto, mi farebbe piacere sapere anche come congelate voi o come conservate voi il sedano. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, commentate, vi ripeto, fatemi sapere, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!